Ciao a tutti, nuovo video, video letture gennaio 2018, prima parte del video letture gennaio 2018 perché come al solito ho letto un po' troppi libri per parlarvene in un video solo, quindi dividerò le letture in due. In questo primo video vi parlerò dei primi sei libri che ho letto, o sette, non sono ancora indeciso, e nella seconda parte dei successivi sei o sette. Quindi, senza perdere troppo tempo, partiamo! Il primo libro che ho letto in quest'anno, nei primi giorni di gennaio, è stato Di odio al Giappone di Douglas Coopland, pubblicato da ISBN Edizioni. Douglas Coopland, autore canadese, che ho sempre voluto leggere ma non ho mai approcciato, non sapevo da quale libro partire. Lui è diventato famoso con il suo libro di esordio, Generazione X, è un libro però che si fa molta fatica a trovare, non è più a catalogo, e quindi non sono ancora riuscito a trovarlo. Ho trovato invece, ad un prezzo molto conveniente, come al solito qui sotto ci sono i link Amazon, questo Di odio al Giappone. Che cos'è? È un romanzo di formazione ambientato a Tokyo negli anni 90. Il protagonista, Hiro Tanaka, si divide tra l'università, lavoretti part-time e le classiche fughe post-adolescenziali. Intanto, quello che mi ha colpito di questo romanzo è lo stile. È uno stile molto particolare, molto asciutto, e questi brevi capitoli di uno o due pagine sono intervallati da disegni e illustrazioni molto particolari che rendono la lettura più interessante, perché ci sono queste illustrazioni veramente divertenti che rispecchiano un po' i pensieri del protagonista e quindi mettono su carta le sue idiosincrasie, le sue teorie sulla società e sul mondo. Molto bello e molto carino. È un romanzo che rispecchia la sua cultura del Giappone, perché ho letto che Coupland ha vissuto per molto tempo a Tokyo, quindi è un occidentale che sa di cosa parla quando ambienta e scrive un libro sul Giappone. Io non ci sono mai stato in Giappone, ma devo dire che tra i racconti di alcuni miei amici che ci sono stati e questo romanzo ho iniziato a farmi un'idea sulla cultura giapponese e anche su quella che è la cultura popolare attuale del Giappone. Infatti questo è sì un omaggio al Giappone, ma è anche una storia universale, perché i problemi e gli eventi che capiteranno al protagonista di questo libro sono quelli che possono capitare a qualunque giovane uomo del mondo. Quindi lo consiglio a chiunque sia appassionato di Giappone, di Tokyo, anche se non so quanto sia accurata la descrizione che Coupland fa del Giappone, ma soprattutto a chiunque voglia leggere un romanzo di formazione molto fresco, brillante, con una scrittura molto elegante, ma anche asciutta. Un bel libro. Successivamente ho letto Altri Libertini di Pier Vittorio Tondelli, pubblicato da Feltrinelli, in questa edizione celebrativa del cinquantennale di Feltrinelli che ho trovato al Libraccio. Altri Libertini è una pietra miliare della letteratura contemporanea italiana. Tondelli negli anni Ottanta esordisce con questa raccolta di racconti e sconvolge il panorama letterario e intellettuale dell'epoca. Perché in questa raccolta di racconti Tondelli ci parla di un'Italia inedita dal punto di vista letterario, quella fetta di società che nessuno aveva mai raccontato, l'Italia degli emarginati, dei freak. Un'Italia scomoda, un'Italia che non piace a tutti. Questo è testimoniato anche dall'accoglienza che questo libro ha. Viene per certi versi censurato e tacciato di volgarità, blasfemia. Tondelli qui racconta una comunità, una vera e propria comunità, un noi che si innalza sopra i singoli. È un libro di forte impatto, con una potenza narrativa pazzesca e che forse riesco a capire meno di quanto avrei potuto capirlo se avessi vissuto l'Italia che racconta Tondelli o almeno il periodo storico che racconta Tondelli. Voglio sicuramente leggere anche altro di Tondelli, un libro che mi ispira molto a Camere Separate, quindi prima di parlare più nello specifico di quest'autore voglio ancora leggere altro di suo. Terzo libro, vi parlo molto brevemente di questo romanzo che in Italia non è ancora arrivato e forse non arriverà mai, non lo so. How to set a fire and why di Jesse Ball. L'ho letto in originale per l'appunto perché in Italia è inedito, di Jesse Ball in Italia ci sono pochissime pubblicazioni, c'è un romanzo pubblicato da Baldini e Castoldi che ho letto, un altro pubblicato da Feltrinelli che si trova molto difficilmente, che non ho ancora recuperato e sono molto contento di aver scoperto che in questo 2018 NN Editore pubblicherà il nuovo romanzo che deve ancora uscire negli Stati Uniti che si chiama Censimento. Quindi complimenti a NN Editore, sarò il primo compratore di Censimento di Jesse Ball. Jesse Ball è uno dei migliori giovani scrittori americani in circolazione, inserito nella lista dei migliori scrittori under 40 dalla rivista Granta. Ma che cos'è questo How to set a fire and why? È una specie di diario, un diario che si cammuffa da manuale per piromani, come appunto dice anche il titolo e la meravigliosa edizione Pantheon a forma di scatola di fiammiferi, ed è la storia di un adolescente che, come molti adolescenti, come quasi tutti gli adolescenti, vogliono veder bruciare il mondo intorno a loro e vogliono ribellarsi contro il sistema. Una fase di ribellione che tutti prima o poi affrontano e che lei esplicita raccontandola in questo diario. L'inglese di Jesse Ball in questo caso è anche molto semplice perché quello che viene raccontato è la voce narrante di un adolescente, senza quindi orpelli narrativi o descrizioni, ma semplicemente fatti e riflessioni. Sono molto curioso di leggere altro di Jesse Ball e spero che prima o poi questo romanzo, ma anche un altro romanzo che si intitola A Cure to Suicide, vengano tradotti e pubblicati in Italia e spero che NN Editor, dopo l'esperimento con Censimento, portere in Italia altri romanzi di questo grande autore. Passiamo ad un altro romanzo, Non mi ami ancora, di Jonathan Lethem, pubblicato da Assaggiatore. Che dire, è Jonathan Lethem. Jonathan Lethem è uno dei miei scrittori preferiti. Questo probabilmente è un suo romanzo minore, non è ai livelli della Fortezza e la Solitudine, non è ai livelli di Chronic City. Nonostante questo, però, è un romanzo che mi è piaciuto molto. La protagonista di questo romanzo è una bassista, fa la bassista in una band, ma per Vivere ha accettato un lavoro un po' particolare, ovvero rispondere a un call center in una installazione artistica, quindi un call center fittizio, e durante questo lavoro entrerà in contatto con una strana persona, con uno strano individuo conosciuto quindi al telefono. E questa conoscenza diventerà reale. Che dire, la prima parte mi ha colpito moltissimo. Lethem riesce a raccontare in modo particolarmente azzeccato quel periodo di vita tra i 20 e i 30 anni, quel periodo in cui non si è più giovani ma non si è neanche adulti, quel periodo in cui non si sa qual è il proprio posto nella società, in cui lo si cerca disperatamente e spesso non lo si trova. Ha raccontato anche molto bene la solitudine e comunque una sorta di sociopatia o di difficoltà a creare legami e rapporti. Lethem poi è un grande narratore e quindi i suoi dialoghi sono sempre precisi e incredibilmente efficaci. Forse la seconda parte, soprattutto il terzo atto, poteva essere gestito meglio, poteva essere migliore. Non è sicuramente un capolavoro né il capolavoro di Lethem, ma per chi già conosce l'autore e per chi magari è interessato alla storia che racconta, è un libro che sicuramente può fare per lui. Bene, andiamo avanti. Lo spazio sfinito di Tommaso Pincio, pubblicato da Minimum Fax. Ve l'ho fatto vedere nell'ultimo book haul. È un libro che ho comprato tra il periodo tra dicembre e gennaio e appena mi è arrivato l'ho subito letto. È un libro anche abbastanza breve, anzi molto breve, sono 130, 150 pagine. La storia è quella di un anni 50 alternativi, gli anni 50 americani alternativi, dove Jack Kerouac e Marilyn Monroe non sono i Jack Kerouac e Marilyn Monroe che conosciamo. Infatti Jack Kerouac, che è il protagonista di questo romanzo, è un disoccupato e accetta un lavoro e questo lavoro è passare nove mesi sulla stazione orbitante della Coca-Cola Enterprises, che in questi anni 50, in questa ucronia di anni 50 americani, è una delle tante multinazionali a possedere una parte di spazio, diciamo, di territorio spaziale. La storia e lo spunto sono incredibilmente intelligenti, a mio avviso, e Pincio racconta questa storia con una leggerezza e un'eleganza incredibile. Infatti gli bastano poche frasi e pochi eventi per farti capire una società diversa da quella degli anni 50 reali. Una cosa geniale di Pincio è quella di usare due personaggi che in realtà sono lo stesso. Infatti in questo romanzo ci sono due personaggi femminili, Marilyn Monroe e Norma Jean, che in realtà sono la stessa persona perché Marilyn Monroe è Norma Jean. E Pincio gioca molto su questo, sulla dualità di questo personaggio. Un romanzo pubblicato nei primi anni 2000, ma che guarda al postmodernismo americano, assolutamente. Un romanzo del tutto non italiano, perché se non sapessimo che Tommaso Pincio è italiano, non lo diremmo che è un romanzo italiano, che mi ha ricordato molto Orso Contro Squad di Chris Buckhelder, in alcune parti, con un po' di Pynchon e un po' di Vonnegut. E soprattutto nelle parti in cui Jack Kerouac deve vivere su questa stazione orbitante, c'è un chiaro riferimento a Solaris, con un pizzico di 2001 di Stan lo Spazio. Un libro che quindi può sembrare molto derivativo, e sicuramente lo è, ma raccontato con una grande perizia. Un libro che mi ha divertito, e che ho letto praticamente in un pomeriggio. E questo non può essere che un fattore molto positivo. Quindi, non ho letto altri romanzi di Tommaso Pincio, li leggerò sicuramente. Non so se questo è un romanzo minore, oppure è un buon punto dove iniziare. Io ho iniziato da questo, e ve lo consiglio, se siete interessati alla trama, ma soprattutto a leggere un romanzo italiano, che di italiano ha praticamente nulla. Ok, gli ultimi due libri di cui devo parlare, sono due raccolte di racconti. La prima raccolta di racconti è Di cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank, di Nathan Englander, pubblicato da Einaudi. Un libro che è stato finalista al Pulitzer, se non sbaglio, qualche anno fa, e in questo momento è l'unico libro a catalogo di Englander in Italia. Verrà pubblicato nei prossimi mesi di Dine Audi, il nuovo romanzo di Englander, e io non vedo l'ora di leggerlo. Di cosa parla questa raccolta di racconti? È sempre difficile dire di cosa parla una raccolta di racconti, perché di solito non c'è un filo conduttore. In questo caso il filo conduttore è sicuramente la religione ebraica. Ho letto molti scrittori americani ebrei, ma non ho letto mai nessuno scrittore così ebreo. Mi spiego meglio. Philip Roth è sicuramente uno scrittore che negli anni ha fatto della sua religione un marchio di fabbrica, uno stampino, ma nonostante questo il suo essere ebreo l'ho sempre ricondotto un po' a quello che poteva essere un Woody Allen e quindi uno humor molto hiddish, uno humor molto derivato da quella cultura, ma soprattutto una forte spinta atea, una forte spinta agnostica contro la religione. In questo caso invece Englander ha una posizione molto più ambigua con la religione, anche se quando parliamo di religione ebraica parliamo soprattutto di etnia, di tradizioni, di famiglia. E infatti credo che è soprattutto questo il fulcro di questa raccolta. Una raccolta che mi è piaciuta moltissimo nonostante abbia al suo interno racconti che considero dei capolavori assoluti e altri invece che non mi hanno per niente convinto. Quindi una raccolta a mio avviso molto discontinua, ma che nel complesso mi ha lasciato a bocca aperta. Infatti qui dentro ci sono almeno tre racconti che valgono in toto il prezzo del libro. In particolare quello che dà il nome al titolo, che ha una matrice molto carveriana con un pizzico di Philip Roth, ma l'impianto del racconto è molto carveriano. E probabilmente il mio racconto preferito all'interno di questa raccolta che è tutto quello che so della mia famiglia dalla parte di mia madre. Probabilmente anche per la mia propensione, il mio amore per i titoli lunghi. Due racconti che come vi dicevo prima parlano di religione, ma parlano soprattutto di famiglia, di legami. E poi siamo di fronte a uno scrittore che ha una prosa incredibile, che riesce a tenere un registro molto ironico, molto sarcastico, nonostante parli anche di tematiche fortissime, di tematiche drammatiche. E questo è una delle virtù e delle capacità, dei talenti che invidio di più a Natalie Englander. Una raccolta di racconti che quindi consiglio assolutamente e che è una cosa che non avete mai letto. Continuando a parlare di cose che probabilmente non avete mai letto, ma che io non avevo mai letto, ed è la raccolta di racconti di Julia Slevin, La donna che si tagliò la gamba al Madison Club. Sempre di Minimum Facts, sempre facendo parte di quell'ordine che ho fatto tra dicembre e gennaio di cui vi parlavo nel book haul scorso. Questa è una raccolta di 10 o 12 racconti molto brevi, tra le 10 e le 20 pagine, cioè racconti istantanei, che sono fuori di testa, racconti fortemente grotteschi, come potete capire dal titolo, dalla copertina, che nuotano ad ampie bracciate nel mare del surrealismo che molti odiano, ma che io ultimamente adoro. Julia Slevin è una scrittrice che non è dotata di una prosa molto particolare, ma che ha la sua forza, che fa del suo cavallo di battaglia le situazioni in cui cala personaggi bizzarri e una forte critica sociale mascherata e nascosta all'interno di questi contesti grotteschi e fuori di testa. Infatti sono il classico racconto breve che è uno spaccato di vita, un racconto che inizia in corso in media stress e finisce prima della fine. Quei racconti che ti lasciano diciamo con la mano in bocca perché vorresti saperne di più, ma capisci che l'autrice ti ha raccontato quello che doveva raccontarti, quello era il senso che voleva trasmetterti. Una raccolta che consiglio assolutamente agli amanti dei film di Buonuel per esempio, per esempio perché me lo ha ricordato molto, situazioni completamente fuori di testa che non hanno nessun senso logico ma che ti rimangono in testa e che possono portare anche delle riflessioni interessanti. In questo caso più che mai mi sento di essere d'accordo con una delle frasi una delle citazioni riportate in quarta di copertina di Rick Moody che dice questa era raccolta i racconti più insolite e sorprendente che abbia letto negli ultimi anni. L'esperienza descriverei così due terzi di puro piacere e un terzo di LSD di prima qualità. Rick Moody è riuscito a sintetizzare in una frase quello che è questa raccolta i racconti di Julius Levin che quindi consiglio a chiunque voglia leggere dei racconti folli e fuori di testa. Bene, spero che questo video abbia avuto un senso. Erano libri molto strani molto particolari di cui era difficile parlare. Se avete letto qualcuno di questi libri o vi hanno interessato scrivetelo nei commenti che magari possiamo argomentare meglio. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!